Le avide menti di domani. Le avide menti di domani. Cosa infinitamente più grave del mio tempo. Tuttavia, siamo qui, quindi potete frequentare o no, potete completare il compito a vostro piacimento, ma abbiamo cominciato. Signorina. Scusatemi. Scusatemi. Salve. Abbiamo un piccolo problema, qui dentro fa un caldo insopportabile con la finestra chiusa e c'è un fracasso insopportabile se l'apriamo. Mi chiedevo se potevate aiutarci, magari andare a lavorare da qualche altra parte, noi staremo qui circa tre quarti d'ora. Non c'è problema. Grazie. Facciamo pausa. Come scoprirete nel calcolo a più variabili, ci sono molte, molte soluzioni ad ogni problema posto. come dicevo, questo problema in particolare richiederà ad alcuni di voi mesi per essere risolto, mentre alcuni fra voi ci metteranno tutta la vita per risolverlo. come dicevo. Come scoprirete nel calcolo a più variabili.